Maxi controlli della Polizia di Stato nel quartiere Rogoredo di Milano. Nel solo mese di settembre sono state 1.400 le persone identificate. Di queste, 500 sono risultate avere precedenti di polizia. I blitz rientrano nell'ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio svolto dalla Polizia di Stato. Nel territorio circostante la stazione ferroviaria a Rogoredo e le aree limitrofe sino al comune di San Donato Milanese. I 20 servizi straordinari disposti dalla Questura di Milano nell'ultimo mese sono stati coordinati dal commissariato Mecenate e svolti insieme agli agenti della squadra mobile, della divisione anticrimine e della divisione amministrativa sociale, dell'ufficio immigrazione, del reparto prevenzione e crimine, della polizia ferroviaria e del reparto mobile con l'ausilio della Polmetro e delle unità cinofile dell'ufficio prevenzione generale. Gli agenti hanno controllato 200 veicoli, arrestato 19 persone per reati inerenti agli stupefacenti e sanzionato 12 persone clienti dell'attività di spaccio nella piazza gestita prevalentemente da cittadini di origine marocchina. È stato sequestrato denaro contante per circa 4.000 euro e le sostanze stupefacenti sequestrate sono eroina, cocaina, shabu e hashish. Nel periodo di riferimento sono state adottate 24 richieste di foglio di via obbligatorio a persone che non avendo un legame con il territorio sono state sorprese a delinquere in quelle determinate aree e 14 ordini di allontanamento a soggetti che impedivano l'accessibilità e la fruizione di aree interne alle infrastrutture, in questo caso ferroviarie. Nell'intero periodo da gennaio ad oggi, pertanto, sono oltre un centinaio i controlli del territorio effettuati dagli agenti del commissariato Mecenate, finalizzati a contrastare la criminalità ed incidere sul degrado dell'area di Rogoredo e zone limitrofe.